Come il senso della pioggia, un e-book, cioè un libro in formato elettronico, i cui proventi saranno devoluti all'Agbe, l'associazione genitori bambini emopatici di Pescara, scritto a quattro mani da Fabio Corvini e Domenico Savino. Il progetto dell'Agbe è importante, come spiega il suo presidente. In questi ultimi giorni abbiamo iniziato il nuovo cantiere per cui siamo impegnatissimi in questa nostra nuova sfida. Io lo chiamo sfida perché l'impegno che ci siamo messi è tanto ed è sicuramente oneroso. Quindi io colgo l'occasione per fare un appello a tutti i benefattori percadesi perché anche questa volta sicuramente ci daranno una mano. Fabio Corvini è formatore nell'ambito di bullismo e cyberbullismo ed esperto dei pericoli della rete, oltre che fotografo, musicista e scrittore, e Domenico Savino è formatore e docente di sicurezza sul lavoro, musicista e scrittore. Da tempo amici dell'associazione hanno scritto a quattro mani il libro che è una sorta di dialogo tra due anime che si srotola da prima in rete e poi di persona. I luoghi della storia sono Napoli, Marsiglia, Orange e Montpellier, con il romanzo che racconta temi essenziali dell'esistenza come l'amore, la fragilità, la forza, il dolore e la speranza. Una vera e propria discussione tra amici che si sono conosciuti appunto sui social e portata avanti appunto sotto forma di questo racconto nato da dentro, dall'interno di entrambi. Proviamo a comunicare attraverso le emozioni e nella continua ricerca della differenza tra ciò che è vero e la verità. Il dialogo tra i due amici che si incontrano per caso si svolge sempre nel cercare di raccontare se stessi con le parole e la difficoltà di farlo con le parole e quindi provare a farlo attraverso le emozioni. L'ebook uscirà appunto tra la fine del mese di gennaio e la fine del mese di febbraio e abbinato a questo ebook ci sarà un brano suonato da noi perché soprattutto siamo musicisti, abbiamo la passione per la musica e si troverà sui maggiori store dove vendono appunto i ebook e a un prezzo simbolico che servirà poi per portare avanti il progetto dell'Agbe per quanto riguarda appunto questa bellissima cosa che stanno facendo e la casa 30 ore per la vita.